Buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo nuovissimo video. Come sempre, io sono Max, parliamo in questo caso di Grande Fratello Hip, perché si avvicina sempre di più il momento dell'addio. Attenzione, apro una piccola parentesi, addio momentaneo per quanto riguarda Sonia Bruganelli al programma. Sarà sostituita in un certo lasso di tempo, infatti già è scattato il Totonomi, perché c'è curiosità anche su chi potrebbe prendere il suo posto. La produzione del reality show di Alfonso Signorini è al lavoro per poter cercare una degna, oppure un degno, perché ci possono anche essere i maschi al posto suo, per fare da successore alla moglie di Paolo Bonolis, che poi certo dopo riprenderebbe nuovamente il suo posto in studio. E nelle ultime ore il sito Blasting News ha tirato fuori dal cilindro un nome, un nome che sa di clamoroso e nelle ultime ore, beh, insomma, scompaginerebbe tutto quanto quel che si è creato e chissà quante polemiche nascerebbero nella casa, all'interno. A proposito di Sonia, in attesa di essere sostituita, nei giorni scorsi si era lamentata, seppur in maniera ironica, per una scelta grafica del programma. Era sparita dalla pagina ufficiale, la quale aveva dato appuntamento ai telespettatori attraverso i canali social. Aveva condiviso un'immagine a tema Halloween, per il periodo, per quei giorni, che ritraeva l'opinionista Orietta Berti, Giulia Salemi, che stavano in studio per leggere i commenti del pubblico nel corso della serata. E a un certo punto Sonia fa Comunque non sono ancora andata in vacanza, eh? Il colpo di scena sarebbe ormai dietro l'angolo, però. Perché Sonia Bruganelli sarà sostituita durante le feste di Natale. In alcune puntate sarà in studio, in altre non ci sarà. Vabbè, insomma, quando non ci sarà capiremo che sarà stata sostituita. Come in realtà era già successo nella scorsa edizione della trasmissione. Il motivo è lo stesso, cioè volontà di trascorrere le vacanze natalizie in compagnia della sua famiglia. E come aveva voglia lo scorso anno, a voi anche quest'anno. E probabilmente si concederà qualche vacanza esotica per godersi il caldo anche d'inverno. Beh, insomma, lei che ha i soldi lo può fare. Ma andiamo a vedere insieme chi sarebbe colui che diventerebbe in maniera anche seppur momentanea opinionista del reality. La stessa Sonia ha confermato che sarà assente in alcuni appuntamenti dicembre, per quanto riguarda anche l'inizio di gennaio, volendo. E al fianco di Oretta Berti potrebbe esserci un ex discusso concorrente del grande fratello VIP, parliamo al maschile. E infatti sì, è lui, è Alex Belli. Si era vociferato della promozione di Giulia Salemi, ma solo che adesso è la dolce metà di Delia Duran ad essere passato in vantaggio. E resta ancora aperta l'ipotesi relativa al ritorno di Adriana Volpe, perché non è detto che anche lei potrebbe essere. Attenzione, perché l'anno scorso ha avuto non pochi problemi con la coniuge di Bonolis. Tutto comunque è ancora da decidere, ecco perché non si sa se è uno o non si sa se è l'altra. Ma parlando della sua vita privata, Alex Belli e Delia Duran non si sposeranno. A rivelare la bomba è Alberto Dandolo sulle colonne di oggi. E in pratica ha rivelato che i due starebbero prendendo in considerazione la possibilità di sposarsi in maniera civile. Sì, in maniera civile, anche se al momento pare sia davvero abbastanza complicato. Il motivo? Delia non sarebbe ancora riuscita ad ottenere il divorzio dal suo ex marito. E se risulti ancora legato a qualcun altro, penso che sia abbastanza difficile. Attenderemo nuovi aggiornamenti, ma nel frattempo per questa notizia è tutto. Io vi ringrazio per l'ascolto di questo video. Buona giornata a tutti e ci sentiremo in giornata per prossime news.